buongiorno a tutti ben ritornati su questo canale come promesso oggi il tutorial della terza parte della quadriglia voglia di allegria prima ve la faccio ascoltare a velocità normale ok adesso al rallentatore guardate bene ragazzi fate bene attenzione ok se avete qualche dubbio se avete qualche difficoltà sono qui per questo per farvi capire per illuminarvi per come dovete fare per andare avanti comunque questa è completata la suonata fatta la terza poi eseguite prima seconda e terza poi ricominciate dalla prima e così via una quadriglia bellissima a mio avviso una delle più belle più belle più divertente più sprint diciamo ok va bene vi lascio al prossimo tutorial ciao